Roma non cambia nulla, possiamo dire che nelle regioni, soprattutto in Lombardia, indubbiamente ci sarà un maggior equilibrio nella coalizione, ma questo non può altro che fare bene, maggiore stabilità, si lavora meglio e ci sarà più slancio per cercare di ottenere quelli che sono i risultati e risolvere i problemi dei cittadini, perché poi dopo qui si parla tanto, ma poi la gente vuole risultati concreti, questo voi lo sapete. Adesso l'autonomia è una promessa che non potrà essere mancata. Con il voto, con la ripresa, il voto che ha fatto bene la Lega in Lombardia, sommato poi a quello della lista Fontana, Fontana è il governatore della Lega, direi che questo ci dà più forza nel sostenere quelli che sono il progetto di autonomia che deve proseguire, è andato in Consiglio dei Ministri, adesso dovrà arrivare in Parlamento, sappiamo che la strada è lunga, sappiamo che non sarà semplice, però questo ci dà dimostrazione, ci dà forza che possiamo andare avanti su questa strada. Le posizioni hanno perso tutte, però in particolare il terzo polo che in Lombardia aveva espresso un solo candidato, la Moratti, che puntava forse un po' a scardinare dei voti dal centro-destra, comunque portato a casa un fiume di mosche. Ma guardi, io ripeto, la Moratti è una persona che stimo, l'ho sempre detto, la conosco personalmente, l'ho vista all'opera, dispiace nel senso che secondo me è proprio sbagliato, più che altro anche perché l'avevamo anche messa in guardia dicendo attenzione perché chi rinnega il proprio passato storico, politico, non ottiene dei grandi risultati. E questa è stata la conferma, insomma, spiace, però ognuno poi è libero di fare le proprie scelte, noi guardiamo al centro-destra, andiamo avanti sulla nostra strada, non ci mettiamo a commentare i risultati a casa degli altri. Grazie a tutti.